L'Asla Dipartimento di Prevenzione mi ha comunicato di aver riscontrato quattro nuovi casi di positività al covid-19. Lo fa sapere il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, in una nota stampa. Nel contempo, continua il sindaco, sono guariti anche due cittadini, quindi il totale di positivi attuali è pari a 11. Per quanto riguarda le dosi somministrate, sono 24.185, mentre sono 12.890 le prime dosi. Finalmente sono riprese le somministrazioni proprio per le prime dosi a partire dal 2 agosto e proseguiranno in questo modo. Mercoledì 4 agosto, seduta straordinaria AstraZeneca, è dedicata a tutti i residenti del distretto sanitario 70 Vallo della Lucania, Agropoli, che non hanno ancora fatto la seconda dose di AstraZeneca, mentre giovedì 5 e venerdì 6 agosto, prime dosi di Pfizer, circa 500 convocati al giorno. Speriamo presto, conclude il sindaco Coppola, disponibilità di dosi permettendo di aumentare l'attuale percentuale di vaccini pari al 59%.